Fra le montagne che svettano oltre i pilastri, i cataclismi di Nosgoth hanno svelato un antico crimine. Avendo assorbito l'anima di Ziphon, ora puoi percorrere strade che prima ti erano proibite. Grazie per la visione! 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 Grazie a questo manufatto la tua capacità di energia dei glifi aumenterà. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.